L'area del centro polifunzionale in via Pittoni ospiterà la Festa della Musica, promossa dalla Free Sound Academy con la direzione artistica di Serena della Monica. Una serie di concerti animeranno la serata presentato dal giornalista Antonio Di Giovanni, momento di forte aggregazione e anche per promuovere i giovani musicisti del territorio, che si terrà nell'area di via Pittoni, è presto oggetto di un progetto di rigenerazione urbana che vedrà la creazione di due centri di aggregazione per giovani e anziani. Domani 21 giugno ricorre la Festa Internazionale della Musica, che quest'anno per la prima volta sarà celebrata, festeggiata anche qui a Pagani, grazie alla collaborazione con la Free Sound Academy e grazie alla direzione artistica di Serena della Monica, che ha prontamente risposto a un mio invito che parte appunto dal desiderio di realizzare anche in città una festa così importante. Sarà realizzata la novità in una zona diversa dal solito, quest'anno la faremo verso il centro polivalente di via Pittoni, che ricordiamo è già una zona centrale della città, seppure poco vissuta, ma nell'ottica futuristica diventerà più centrale proprio rispetto a tutta una serie di azioni che questa amministrazione ha messo in campo. Quindi un evento prestigioso, il direttore artistico ha iscritto appunto questa iniziativa al sito ufficiale che vede appunto la partecipazione e il padrocino anche del MIBACT naturalmente, che gira su un contesto internazionale, tant'è che come lei stessa ha avuto modo di dirci, esiste anche la geolocalizzazione dell'evento, per cui domani sarà possibile vedere l'evento in streaming. Parteciperanno nove gruppi, nove orchestre, cori proveniti da varie parti della città, per cui siamo assolutamente contenti e felici di poter realizzare un evento del genere che nasce appunto dalla sinergia con realtà come questa. Il tema di questa edizione è Vivi la vita, con l'obiettivo di diffondere il messaggio di sicurezza stradale e di custodire la vita, capirne l'importanza, vivere momenti di gioia ed emozione che anche la musica può promuovere. È un messaggio di sicurezza stradale che viene lanciato ai giovani, è un messaggio di protezione della loro vita per far capire l'importanza della vita e noi in questo caso la festeggiamo attraverso la musica, quale modo migliore.